Quindi, in quest'ora che ci manca, la dedichiamo a esercizi ed eventualmente a parlare un pochino del laboratorio, non c'è in realtà molto da dirsi, per questo primo laboratorio almeno. Allora, proviamo solo a riassumere quello che abbiamo detto tra la volta scorsa e questa volta sulla sync e la programmazione asincrona in JavaScript. JavaScript è un linguaggio di programmazione che per l'engine di JavaScript funziona in maniera sincrona e single-traded, quindi nativamente non ha la possibilità di comportarsi in maniera asincrona, di creare thread o cose simili. Ha però dei meccanismi che simulano, che rendono l'idea, che permettono quindi di avere questi comportamenti asincroni, come abbiamo appena visto. Abbiamo poi due tipi di callback per fare varie cose, abbiamo le callback sincrone come quelle della programmazione funzionale, filter, map, reduce, eccetera, e abbiamo il callback asincrone. Perché ci servono le cose asincrone? Perché? Perché se abbiamo un programma di una certa grandezza, non possiamo tutte le volte che dobbiamo leggere da database, fare operazioni lunghe e da disco, per esempio, o da rete che richiedono 5, 6, 10 secondi, bloccare l'esecuzione di un intero programma o di un intero sito web congelando qualunque cosa solo perché dobbiamo aspettare un'informazione da database. Perché magari non tutto dipende da quel database, ci sono altre cose che invece devono continuare a funzionare tranquillamente perché sono indipendenti da quella specifica funzione. E allora ecco che ci sono le callback asincrone, che hanno quelle caratteristiche che abbiamo visto, tipo con SQLite, che hanno quei problemi in alcuni casi che abbiamo visto, tipo la callback hell, tipo quello che capita con l'insert, e quel doppio meccanismo insert, stampa, insert, insert select, insert select, insert select, sulla stessa tabella. E per quelle soluzioni, per anche scrivere un codice un pochino più leggibile, hanno introdotto le promise che si possono creare e consumare, promise che possono essere come risultato finale, che in un certo momento sono pending e poi diventano riempite con successo oppure riempite con insuccesso nel caso del rejected. E poi c'è async await, che è un modo più facile, se volete, di scrivere quelle stesse promise, ma funzionalmente sono identiche, async await o promise. Fanno la stessa cosa, diciamo, sotto il cofano. È solo un modo sincrono di scrivere cosa asincrona. Ma in ogni caso, quando c'è una promise, quando c'è una await, il JavaScript aspetta che l'esecuzione di quella singola porzione di codice asincrono ritorni, in modo da poterlo gestire correttamente e avere i risultati che servono prima di processarli. Questa è la lezione di due ore appena passata in tre minuti. Ora, se non ci sono dubbi su quella parte, proviamo a fare un esercizio così magari escono fuori dei dubbi. Allora, questo è un file di esercizi che avete anche sul sito e su GitHub e in cui ci sono due esercizi. Il primo lo saltiamo, ma non perché sia brutto, ma il primo è totalmente sulla programmazione funzionale. Vedete, lo dite usando la programmazione funzionale provate a risolvere questo. Vi do le soluzioni, penso, in giornata già e non lo facciamo adesso perché sulla programmazione funzionale abbiamo già fatto un bel esercizio, secondo me, equivalente a questo. La volta scorsa, quando abbiamo reso funzionale il nostro libretto degli esami, i vari find, i vari metodi find, eccetera, che abbiamo fatto tutto funzionale con filter, con map, con reduce per la media, eccetera. Però è un esercizio che se volete fare, potete farlo, sicuramente vi permette di sbattere la testa se lo fate in maniera interamente funzionale su varie cose perché richiede vari utilizzi di filter, map, un reduce per calcolare la media, di nuovo delle conversioni da trentesimi a lettere, poi da lettere a valori da 1 a 4, insomma, varie cose così. Quello che invece non è necessariamente funzionale, ma che ha le promise, che ha tutto quello che, l'interazione col database, che è quello che vogliamo fare adesso, è questo secondo esercizio, che è un'evoluzione dell'esercizio che abbiamo fatto l'altra volta sul libretto di esami, quello che avevo chiamato transcript.js. Essenzialmente, vedete, è la stessa esercizio, gestire una lista di oggetti e tabelle database, che includono informazioni sugli esami, codice del corso, nome del corso, credit, score, informato numero più booleano, data, superamento dell'esame, con degli oggetti di tipo esame, quindi con una construction function, con un exam list, che è un'altra construction function, che però, a differenza di prima, avrà dei metodi, alcuni simili a quelli del transcript, alcuni diversi da quelli del transcript, i quali lavoreranno col database e i quali devono ritornare delle promise, e quindi dobbiamo gestirle con le promise, dobbiamo gestire, creare promise, consumare promise, per poter anche solo testare che queste cose funzionano. Non riusciamo a testare magari tanto la concatenazione, però riusciamo sicuramente a creare le promise, a consumarle. Ok, quindi questo, quello che vi chiede è, esattamente come l'altra volta, di avere un metodo che aggiunga un esame, questa volta l'aggiunta viene fatta al database, non solo a una lista che abbiamo in memoria, di trovare un esame, questo find, di fare un get all, dammi tutti gli esami che ho superato, dal database, e di avere un after date, quindi dammi gli esami che sono stati completati dopo una certa data, come facevamo prima, con la versione senza database, e poi ha un metodo nuovo che si chiama get worst, n, che prende, restituisce una lista di esami con i primi n esami che hanno il voto più basso. Quindi se avete due esami con 18 e mettete un get worst di due, vi restituisce solo quei due esami con 18 e gli altri più alti invece li mantiene e non li restituisce perché per ne sono i due più bassi. Quindi per fare questo, io vi ho condiviso qui su Slack il database, SQLite, è un file, basta che lo mettete in una cartella in cui create un file JavaScript, e ho preso, quindi questo lo abbandono, torniamo sul codice, e ho preso, ho fatto copia e incolla del transcript che abbiamo fatto insieme l'altra volta, esattamente quello che abbiamo fatto insieme l'altra volta, di cui trovate anche una soluzione su GitHub, lì ovviamente è diversa, non tantissimo diversa, ma fa alcune cose in più. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto in aula l'altra volta. Quindi creiamo l'oggetto esame, creiamo l'oggetto exam list, però ci servono cose diverse, quindi iniziamo con, diamo un altro nome, chiamiamolo transcriptdb, giusto per ricordarci che c'è un db, e iniziamo a togliere innanzitutto le cose che sicuramente non ci servono, o che probabilmente non ci servono. Non ci serve probabilmente un array di una lista all'interno degli esami, l'add sicuramente non deve far questo, ma deve scrivere sul database, il find ci serve, però anche il find direi che deve scrivere, deve leggere da database, quindi questo possiamo toglierlo, l'after date ci serve, e quindi anche lui lo dobbiamo togliere, il corpo, il list by date, il list by score, la media pesata, la media non pesata, invece non ci servono perché non sono metodi dell'esercizio attuale, quindi questi li togliamo. e poi questi possiamo lasciarli così per ora e vedere, perché aggiungeremo anche noi degli esami. Quello che ci serve è sicuramente il codice corretto di questi esami, perché nel database non c'è 01 ABC, ma ci sono dei codici corretti. Quindi applicazioni web, come andate a vedere dal database, mi sembra sia 01 TXYOV, che in realtà è quello del corso in inglese, perché condividiamo sempre materiale, quindi tutto è in inglese, e per esempio, in inglese software non sono sicuro che ci sia nel database, ma c'è sicuramente data science e qualcosa, che è un 01 SQJOV, che si chiama data science and database technology, una cosa del genere, che è da 8 crediti, se non ricordo male, e possiamo lasciarlo superato in questa stessa data. E il resto possiamo lasciarlo a un momento così, perché sicuramente un add ci sarà, perché dobbiamo implementarlo. Allora, qual è la prima cosa che ci serve? Qual è la prima cosa che dobbiamo fare? esatto, dobbiamo importare SQLite, quindi const SQLite uguale require di SQLite3, quindi usiamo la stessa libreria che abbiamo usato finora negli esempi, e dobbiamo anche installarla, quindi npm install SQLite3. No, dobbiamo fare prima npm init, perché vedete non abbiamo il file package.json, quindi npm init, e diamogli valore di default, non importa, quindi sempre invio. e poi a questo punto npm install SQLite3. E install SQLite3 e anche djs. perché ci servono entrambi, non sono state ancora installate. Aspettiamo un attimo. Vedete, ci dice ho aggiunto entrambi dei js, se vogliamo esserne sicure, possiamo saprire il file package.json, qui vediamo che effettivamente ha aggiunto entrambe le librerie. benissimo. Ora, tutte queste, vedete, ovviamente operano sul db e richiedono delle promise. Quindi, all'interno di questo exam list, la prima cosa che possiamo fare è aprire i database, istanziare il database. quindi const db uguale new SQLite.database, questo potete prenderlo, copiarlo, incollarlo dalle slide o dal sito di SQLite3 della libreria JavaScript. Questo vuole un parametro che è exams, che è il nome del database, che si chiama exams.sequelite ed è in questa cartella, quindi non devo specificare nessun percorso relativo. E poi c'è questa callback che ci dà l'errore, che se ricordate, sul, se c'è un errore, fa qualcosa con questo errore. Quindi se c'è l'errore, possiamo scrivere ifair, come nelle slide, ifair, possiamo lanciare l'eccezione. Possiamo lanciare l'errore. E creiamo il database. A questo punto possiamo provare a scrivere il metodo, ecco, scriviamo i metodi che ci servono. Ci serve add, ci serve get all giusto? Sì, get all find after date. Get all, quindi this punto this punto get all scriviamolo come gli altri, così. Abbiamo detto find after date get e poi get worst. Quindi get worst. Quindi this punto get worst. E questo è esattamente quello che abbiamo fatto praticamente l'altra volta, già, quindi niente di particolarmente nuovo. ok. E esame, allora, iniziamo a implementare l'add. L'add cosa dice? Passa un oggetto esame al database, quindi fai un insert nel database. Allora, fatemi fare un cambiamento, visto che useremo spesso questo esame anche quando, immagino, ci torneranno i dati da SQLite. Il cambiamento che facciamo è questo. e invece di passare date nel formato già djs la convertiamo qua. Così possiamo passare solo delle stringhe, ci pensa il costruttore a creare delle date, visto che appunto abbiamo già bisogno, lo chiameremo diverse volte, lo parsificheremo diverse volte. Nel database c'è la colonna data in cui data past, date past, che è la data in cui viene passato l'esame che è già di tipo data, quindi lui si aspetta una data al suo interno. Ok, quindi in questo add cosa dobbiamo fare? Facciamo un insert, quindi che metodo del database utilizziamo per fare un insert? Partiamo da quello. run, giusto. Quindi db.run e se voi ricordate db.run ha tre parametri, la query, un eventuale parametri da passare alla query e una callback che ha solo r il db.run, perché non torna niente il db.run, ha solo la gestione degli errori. Ora, tutto questo, noi abbiamo detto, questo è asincrono, ha quel problema di prima, quindi se noi facciamo un add, se noi qui scrivessimo add e poi facessimo exams.getAll, avremmo il problema che questo getAll verrebbe probabilmente eseguito, darebbe un risultato prima di almeno uno dei due di questi add, come abbiamo visto prima, perché questo è un insert e poi c'è un select asterisco, praticamente una getAll. Quindi dobbiamo necessariamente, abbiamo detto, o chiamiamo, non possiamo mettere il metodo getAll qui dentro, perché lo stiamo gestendo a oggetti in un certo senso, quindi questi sono metodi che devono essere chiamati, quindi dobbiamo renderlo, dobbiamo renderlo funzionale da un punto di vista sincrono e quindi qui cosa scriviamo? Cosa usiamo? L'abbiamo appena visto. Cosa continua a scrivere, secondo voi? esatto, return new promise. Ok, infatti, quindi tutto questo metodo add ritorna una promise. Return new promise, abbiamo detto che promise hanno due parametri, resolve e reject, sempre, e anche loro hanno una callback con quello che bisogna far ritornare come risolto o come riftato, quindi copiamo il db.run all'interno del return new promise, essenzialmente. E questo lo facciamo poi per tutti i metodi del database, perché ritorniamo sempre una promise. ora, la query SQL, quindi const, ecco, è tipico che la query SQL venga scritta a parte, come c'è anche nelle slide, e quindi una stringa come dentro la query che poi qui dentro, in db.run, passiamo SQL, così è più facile, sia usare questo come template, se devi fare un altro inserimento all'interno, hai un altro metodo che fa un insert, basta fare il copy in quello, col di quello e cambiare la query, e meno male, e quindi hai risolto tutto, oppure parametrizzarlo se uno volesse spostarlo all'interno di un'altra funzione. Cosa scriviamo qui? Scriviamo insert, in to, la tabella si chiama score, e i vari parametri sono course code, score, load, laude, e data passata, date passed. E abbiamo bisogno dei valori, questo è una query SQL normale, quindi non, sono quattro valori, uno, due, tre, quattro, e non devo aver, ok, quindi questa è una insert, una query SQL, dove i punti di domanda, ricordate, sono i query parameter che adesso andremo a inserire qui, in questa parentesi quadra che abbiamo lasciato vuoto. Poi, dato che l'ultima colonna è una data, facciamoglielo formattare come data, quindi scriviamo date, punto di domanda, invece di solo punto di domanda. Così SQL fa il suo lavoro, prende questo che gli passiamo qui, che sarà una stringa, e lo converte nel suo formato di data accettato dal suo database. Sì, le query vengono passate da run come prepare statement. qui, e anche le altre ovviamente, qui, ecco, in realtà, una cosa che non vi ho detto, ma che posso, posso dirvi adesso, è che queste operazioni, il db run, il db get, prima vi ho detto, controlla una cell data base aperto, è vero, controlla una cell data base aperto, e fanno una cosa in più, quando hanno finito, lo chiudono, e poi lo riaprono, se hanno questo riferimento, quindi, sanno cos'è il database, mantengono l'oggetto vivo, ma ci preoccupano loro, ogni query, ogni db run, ogni db all, ogni db get, eccetera, ad aprire, se il database è chiuso, e a chiudere il database, una volta che è stato ovviamente dichiarato, qual è il database, quindi quando c'è questa riga qui, quindi per esempio, non è necessario, può essere non necessario, scrivere db punto close, perché si preoccupano loro, di aprirlo e chiudere, al bisogno, quindi, diciamo, è una libreria intelligente, diciamo così, da quel punto di vista. Ok, quali parametri passiamo, quindi abbiamo la query, quali parametri passiamo, i nostri parametri si chiamano, course code, l'abbiamo chiamato exam.code, e il nome non ci interessa, i crediti non ci interessano, ci serve lo score, quindi exam.score, e ci serve, nell'ordine giusto, ci serve la lode, e ci serve la data, che abbiamo chiamato date. ora, la data, se ricordate l'altra volta, è una data, DJS, che comprende anche il tempo, anche l'orario, e quindi viene stampata, se noi la passiamo così, verrebbe stampata come, anno, trattino, mese, trattino, giorno, t, ora, minuti, secondi, che non è quello che vogliamo noi, perché un esame viene superato, in un giorno specifico, non viene superato, alle 10.05 del mattino, non viene registrato così, quindi quello che dobbiamo far qui, è passare una data, in formato, in testuale, in formato stringa, perché poi ci preoccupa, si preoccupa SQLite, di convertirlo, nel suo formato date, in questo caso, c'è una colonna, la colonna di tipo date, non è di tipo stringa, a differenza delle altre, course code di tipo stringa, score di tipo numerico, lode, le quali entri di tipo booleano, in SQLite non esiste il booleano, esiste 1.0, e quindi, ci preoccupa lui, di convertirlo in 1.0, in realtà, quindi se questo è true, diventa 1, se è false, diventa 0, e data, lo vuole come stringa, e ci preoccupa lui, di convertirlo in data, quindi dato che adesso, abbiamo una data, abbiamo anche tutto un tempo dietro, dobbiamo dire a DJS, di convertirlo, in solo data, o meglio, di formattarlo, in solo data, e quindi, possiamo usare format, che è un metodo di DJS, che ci dice, come vogliamo formattare la data, e noi come la vogliamo formattare, la formattiamo nel formato, che SQLite usa, quindi anno, 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 quattro volte y, quindi l'anno intero, mese, e giorno, quindi, questo non ha bisogno di plug-in, per DJS, quindi quattro volte y, trattino, due volte il mese, trattino, due volte il giorno, non ci interessa l'ora, e quindi la tagliamo, a questo punto, se facciamo come, nelle slide, ne facciamo, se c'è un errore, nelle slide, c'è scritto console.log error, qui facciamo, dato che è una promise, cosa scrivo, risolvo reject, reject, perché è un errore, e cosa rifiuto, beh, potrei non rifiutare niente, se, del reject, senza parametri, oppure posso restituire l'errore, così può essere gestito, se uno volesse, gestirlo nel codice, stamparlo, fare, boh, se è un problema di chiusura del database, gestirlo in qualche modo, e, altrimenti, questo altrimenti, potrebbe anche, altrimenti, in questo caso, ci vuole l'altrimenti, perché il reject, non è detto, lasciamo l'altrimenti, non è detto che ci voglia, giustamente, altrimenti, però così più lineare, risolve a questo punto. Cosa risolviamo? Noi potremmo non risolvere niente, perché è un inserimento, non è che abbiamo dei dati da recuperare dal database, oppure, potremmo restituire qui, uno di quelle due, vi ho detto, variabili, che SQLite restituisce, nel, in questo caso, che sono, o il dis.last.d, che rappresenta l'ultimo id del database restituito, oppure, il dis.changes, che rappresenta il numero di righe, che sono state cambiate, ora, in questo caso, non è cambiato niente, perché abbiamo solo aggiunto, e quindi potremmo usare dis.last.d. e si scrive così, se non ricordo male. A questo punto, quando noi chiamiamo l'add, creiamo una promise, facciamo la query, la query è asincrona, quando tornerà il risultato, questo callback asincrona, se il risultato è positivo, verrà risolta la promise. Quindi, qui, se noi vogliamo fare due inserimenti, e vogliamo aspettare, facciamo così, aggiungiamone uno solo per ora. Se noi volessimo aggiungerlo, e poi fare, un get all, ma dopo che è stato aggiunto, cosa dovremmo scrivere? Vogliamo aggiungerlo, aspettare che venga aggiunto, e poi fare un query su tutto, per vedere che è stato aggiunto, che è stato aggiunto correttamente. Come modifichiamo questo codice? No, noi vogliamo aggiungere, e poi fare un get all. No, esatto, quindi add.den, den di che cosa? Beh, noi restituiamo, sappiamo che restituiamo un id, quindi potremmo, possiamo anche non mettere niente, ma visto che restituiamo un id, passiamolo, e a quel punto, exams.get all. ok, potevamo usare a sink qui, a weight qui? In teoria sì, ma perché non possiamo usare la weight? esatto, perché la funzione non è async, qui non c'è una funzione, qui siamo al top level addirittura, eh? No, non è stato definito come async, non importa, perché è ritorno a una promise, quindi questa, ritorno a una promise, va bene così, e non c'è bisogno di definirla anche come async, è ridondante, perché torno a una promise, dato che async e il retorno a promise sono praticamente equivalenti e il den è equivalente alla weight, non c'è bisogno di definirlo come async, c'è bisogno che torni una promise, o come async oppure non come async, questo, async si preoccupa lui, torno a una promise, noi stiamo facendo una mano, e qui non possiamo usare a weight perché non siamo in una funzione, siamo nel corpo principale, e qui non è un problema, Esatto, se lasciamo la get all fuori dal then, non è detto che quando facevamo la query avremmo avuto anche la query di prendi tutto, avremmo avuto anche l'esame che abbiamo appena inserito. Magari ci restituiva tutto, ma magari quell'esame no. Come capitava con i numeri? Quindi con then.getAll assicura che questa venga chiamata solo dopo che la funzione add è stata terminata, in questo caso con successo. Quindi se la add fa un inserimento fallito o ci mette 5 secondi a eseguirsi, lui aspetta questi 5 secondi e poi fa la getAll. Adesso scriviamo. Ok, prima di vedere se funziona e di vedere che in realtà c'è una cosa che non funziona del tutto, ma questo anzi facciamo così. Facciamo anche console.log.id, visto che abbiamo questo id, almeno stampiamolo, così vediamo cosa fa e poi facciamo getAll. E tutte queste due righe di codice, entrambe, vengono eseguite solo quando la add ritorna una promise fulfilled, quindi risolta. Quindi finché la add non torna, finché il metodo add non torna, queste non vengono eseguite. Perché sono tutte e due nel den. Sì, questo id qui è quello che ritorna l'add. In questo caso l'add risolve questo qui, che è un numero, che è l'id della riga aggiunta tramite l'insert nel database, due nel nostro caso, perché il database ha solo un esame fatto, e quindi questo ritornerà due e quindi noi stampiamo questo due. Quindi questo è il parametro che viene ritornato dalla funzione che sta prima del den. O i parametri ritornati alla funzione, se fosse un array, potremmo scrivere anche un array, è come una funzione normale. Anzi, prima di scrivere la getAll, quindi fatemela commentare, eseguiamo questo. Quindi come prima, node transcript db. Allora, ci dà un errore, adesso andiamo a capire qual è. L'errore è di tipo un handle promise rejection warning, perché noi non abbiamo scritto punto catch, quindi non stiamo gestendo il reject. Quindi node ti dice, occhio, che devi gestire il reject, non puoi lasciarlo così. Quindi non lo gestisci come secondo parametro, oppure lo gestisci con un punto catch. Però l'errore te lo fa vedere lo stesso, quindi è buona norma scrivere il catch. SQLiteError, nearValue. Insert intoScore. Sì, non forse, sicuramente values, giusto, mi è scappato una s. Ok. Ieri mi era scappata una parentesi quando provavo questa cosa. Ok, però ecco, questa ci dice anche che buona norma, fare punto catch, e in questo caso R, e magari facciamo un console.log R. Così abbiamo anche il caso catch. Node ci ricorda sempre che quando ci capita una promise rifiutata, come in questo caso, ecco in questo caso la promise rifiutata non ha fatto l'inserimento, ovviamente, perché la query era addirittura sbagliata. Però ci ricorda che è bene fare il catch, e quindi gestire anche la promise rifiutata. Quindi riproviamo, adesso che dovrebbe essere a posto. Ok. Allora, vedete che questo log ID ci stampa undefined. Però se andiamo a aprire il database, visto che non possiamo in questo momento fare una get all, perché non abbiamo ancora scritto la query, e apriamo score, qui è sempre piccolo, non so quanto vedete, ma ci sono due righe, tra cui c'è anche appunto applicazioni web con 30, che è quello che abbiamo aggiunto, 30 load. Quindi l'inserimento è andato a buon fine. Quello che non ha funzionato è che questo ID è undefined, invece doveva essere 2. Allora, perché undefined? Per questo. Perché, e questa è una cosa che non abbiamo detto ancora, per questo, per colpa del dis. Avremo una lezione più avanti solo sul dis, perché ha tutta una serie di regole da tenere sott'occhio, ma il problema è che questo dis, che dentro una arrow function, ridefinisce il suo dis. Quindi questo last.d è riferito al db run, ma questa arrow function ridefinisce un suo dis. Quindi qua dentro il dis è nuovo, è un dis di quella funzione. E quindi dato che qui dentro non c'è nessuno che definisce un dis last.d uguale a qualcosa, questo di default è undefined, non è definito. Allora, in questo caso, io l'ho scritto apposta come arrow function, anche perché nelle slide è come arrow function. In questo caso funziona tutto, quindi l'inserimento va. Ma non possiamo ritornare il last.d, perché questo dis si riferisce a un dis, ripeto, creato qua dentro, e non al dis della db run. E quindi se vogliamo restituire un last.d perché ci serve, quello che possiamo fare, la cosa più facile da fare, è questa. Non usare un arrow function e usare una funzione senza nome qualunque. Perché? Perché una funzione è una function expression, come in questo caso, non ridefinisce il dis, a differenza dell'arrow function, e usa il dis e reddita il dis da chi la chiama, in questo caso la db run. Quindi occhio che nelle run, se vi serve il last.d, non potete usare le arrow function. Per questo problema del dis, che poi ci sono 40 regole sul dis, che vedremo con calma in una lezione dedicata. Però le arrow function ridefiniscono il dis. Anche per questo, vi abbiamo detto a un certo punto, quando avete funzioni, quando avete funzioni concatenate, innestate una dentro l'altra, è consigliabile usare l'arrow function, perché così ognuna ha il suo scope ridefinito, per esempio per il dis, e quindi è indipendente, in un certo senso, dalla funzione che lo precede per quanto riguarda il dis, e si possono fare una serie di cose col dis che altrimenti non si possono fare, perché si va solo a scrivere il dis, definito nelle funzioni che la contengono. Invece qui si riparte, in un certo senso, da zero, per esempio, sul dis. Quindi questo lo vedremo con calma, ma il messaggio da ricordarsi è, quando c'è una run, se vi serve ritornare l'id dell'ultimo oggetto inserito, o usare anche il dis.changes, quindi quelle due variabili fornite da SQLite, la libreria SQLite, non potete usare un arrow function. Se invece non vi interessa restituirli, usate quello che volete. Ora, se io vado a cancellare dal database quella riga, perché non posso rinserire lo stesso esame due volte, ovviamente, perché il course code è chiave primaria, quindi se io cancello questo esame e rifaccio, lasciamolo aperto, e rieseguo il programma, vedete che adesso mi dà id. Vabbè, mi dà id2, che è esattamente l'id della riga che... E se facessimo un altro inserimento, mi darebbe d3, 4, 5, così via. Che è la riga in cui viene inserito l'id. Ok. GetAll. La GetAll funziona in maniera simile a questa, quindi fatemi fare così, copia e incolla di questa cosa, così evitiamo di riscrivere il codice e tutto. Perché anche lei dovrà ritornare una promise, che sarà risolta o rifiutata, anche lei avrà una query, poi non chiamerà la db run, chiamerà la db all, però alla fine della giornata non cambia tantissimo, avrà comunque un reject e un resolve. Allora, return your promise. Quale query dobbiamo fare? Questa è facile, vediamo anche nella slide. Select asterisco from... Qui c'è un join da fare, perché nella all vogliamo tutte le informazioni sugli esami, invece in score abbiamo solo codice, voto, load e data. Non abbiamo il nome, invece noi nel nostro oggetto esame da tornare abbiamo tutte queste informazioni, quindi ci servono tutte, ci servono anche i crediti e il nome. Quindi dobbiamo fare una join con score, per mettere insieme i corsi con gli esami. Non facciamo una left join come nelle slide, come nell'esempio che c'era prima, quando abbiamo visto anche le slide, perché non ci interessano tutti i corsi, anche che non hanno un esame. Ci interessano solo i corsi che hanno un esame sostenuto, quindi una join normale va benissimo. On, dov'è che facciamo la join? su course.code, che deve essere uguale a score.coursecode, perché si chiamano così le colonne. A questo punto facciamo una db all, in cui passiamo SQL, ci servono dei parametri? Ci servono dei parametri? No. Quindi possiamo o mettere il campo o lasciarlo vuoto. Io tipicamente lo lascio vuoto, perché così mi ricordo che lì c'è un altro parametro, c'è un altro parametro di questa funzione che può essere riempito, quindi può essere comodo mantenerlo, ricordarsi che esiste. Qui possiamo, se vogliamo, ritornare all'arrrow function, perché non abbiamo più this.id o this.changes, se siamo più comodi a scrivere. E cosa fa questa db all? Se c'è un errore, facciamo sempre reject, esattamente come prima. se non c'è l'errore, ovviamente non facciamo un resolve di last.id, ma dobbiamo fare qualcosa di più complicato. Allora, cosa fa? Cosa dobbiamo fare qui? E cosa chiede? Chiede, ritorna una promise che risolve in una lista di tutti gli esami. Quindi, cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo avere una lista di tutti gli esami. Qui manca un parametro, perché c'è erro e rose, che è il risultato dove andrà messo e la db all. Cosa dobbiamo scrivere qui? In prima battuta almeno? Cosa ritorniamo? Il rose. Il 60% giusto. La rose è già un array. Quindi se noi vogliamo indietro un array, ci potrebbe bastare scrivere rose. Non dobbiamo applicare l'operatore di spread, perché non dobbiamo scompattare l'array. Quello che ci chiede qui è ritornare alla promise che risolve a un exam list, che è una lista comunque, con tutti gli esami. Quindi un array. Ci va bene l'array, non ci serve lo spread. Però occhio che noi vogliamo gli esami. Gli esami costruiti secondo l'oggetto. Allora, se noi facciamo .den console.log, sperando che funzioni, così. Ah, sì, c'è già il database. C'è già l'elemento, quindi ci dà errore per quello. Facciamolo così, così è più facile. Facciamo così, console.log di rose. Allora, se noi facciamo, se noi stampiamo rose, al netto di quest'errore, ah, certo, giustamente. Devo cancellarlo perché è nel den, quindi dato che viene rifiutato, passa nel catch e quindi non riusciamo a eseguirlo. Allora, se io stampo raw, vedete cosa c'è dentro raw. C'è codice, che va bene, perché è il campo che abbiamo. C'è nome, che va bene, perché è il campo che abbiamo. CF1 lo chiamiamo credits, quindi non so se va tanto bene. Abbiamo course code, che non ci serve sicuramente. Abbiamo score, che va bene. Abbiamo load, che è 1, ma a noi serve un booleano. E data passata, che è questo, a noi ci piacerebbe che si chiamasse date, ma possiamo magari andarlo bene. Quindi questo non è un oggetto di tipo exam, è una lista delle cose che sono uscite dal database. Quindi cosa dobbiamo fare? Sicuramente dobbiamo ritornare qualcosa, ma diciamo così, dobbiamo tornare a un qualcosa che, questo è sbagliato, ma dobbiamo tornare a un qualcosa che derivi da rows e finisca dentro una variabile che chiamiamo esami, per esempio. Come facciamo a togliere le cose che non ci servono e manipolare? Esatto, dobbiamo restituire un array di oggetti exam che creiamo con un for che prendi valore da rows, per esempio. Ecco, noi non abbiamo in realtà, potremmo anche fare così, questa è una variazione rispetto al testo che non mi piaceva tanto, creare un exam list, perché in realtà noi non abbiamo, un exam list è questo, quello dove stiamo lavorando, quindi creare un exam list creeremo un altro database e quindi creiamo un array, quindi invece di creare un exam list, creiamo un array con un oggetto exam per ogni elemento row. Non ci serve fare un add dell'exam list, perché l'add aggiunge nel database, quindi non ha senso che noi leggiamo dal database e poi reinseriamo tutto nel database, però dobbiamo creare un oggetto exam e l'abbiamo fatto già, no? Questa è una creazione di un oggetto exam, dobbiamo fare la stessa cosa, quindi con un new. Allora, visto che abbiamo imparato programmazione funzionale, invece di fare for, che potremmo fare, potremmo usare in programmazione funzionale che cosa? Per manipolare un array e mettere un altro array. Map, Filter, Reduce. Sono altre opzioni, facile, perché sono poche, poche possibilità di errori. Map. Giusto. E cosa mappiamo? Mappiamo, beh, row, che è sincrono, e per ogni riga facciamo un nuovo esame che abbia i parametri che ci servono, quindi row.code, row.name, row.cfu, row.date.past, sì, perché è il quarto parametro della data, date.past, sed, e, quindi questa, e poi row.score, ecco, e poi non row.load, lode, così, semplicemente, perché questo è 0,1, noi invece lo vogliamo booleano, potremmo per esempio, potremmo usare quell'operatore ternario che abbiamo usato l'altra volta, se non ci ricordiamo a che cosa corrisponde l'1, a che cosa corrisponde lo 0, oppure possiamo mettere uguale o uguale a 1, quindi quello risolve true, se l'ode è uguale a 1, quindi come memorizzato il true nel database, oppure 0, se la lode, oppure false, se la lode è diversa da 1, cioè 0, quindi se non c'è. E a quel punto possiamo dire risolve exam. E quindi qui potremmo scrivere appunto then exams e fare qualcosa con questi exams, per esempio stamparli. Per esempio. ok? Allora, io adesso non proseguirei, rischiamo con 10 minuti, con fare questi altri metodi, ma tanto sono equivalenti. Find sarà questo con un where, perché devo trovare un codice specifico, e il date sarà sarà sempre questo con un where diverso, non sempre il where del get all, ma filtrando sulla data, quindi dove data è maggiore di, il valore è passato qui, e il get worst invece si potrebbe fare senza usare il database, ma direttamente in codice. in codice. Quello che vorrei fare in questi 10 minuti è proviamo a scrivere questo con async await. No, no, questo, se usiamo un'altra variabile qui dici o dove? Qui? Questo? No, questo puoi chiamarlo anche Pippo, come vuoi tu, è una variabile. È la variabile che poi risolvi. Adesso Pippo è un pessimo nome, ma puoi chiamarlo come vuoi. Dato che sono esami, io l'ho chiamato exam. Sì, sì, no, puoi chiamarla. Dove l'abbiamo usata, exams? Ah, qui. Sì, chiamiamola exam list. L'abbiamo usata anche questa? No. No, 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 non fa conflitto perché questa è dichiarata qui dentro, è in questo scope, quindi nasce, cresce e muore all'interno dell'else. Questa invece è dichiarata nello scopo globale. Dicevo, proviamo a riscrivere questo con async await. Gli altri metodi, no, avete capito, più o meno, bisogna cambiare la query, bisogna cambiare cosa si ritorna. come possiamo scriverlo a questo con async await se volessimo? Possiamo per esempio fare una funzione che si chiama main che deve essere asincrona se vogliamo usare se vogliamo usare await che abbia all'interno esattamente questo. E poi qui possiamo semplicemente dire main nel corpo del programma. A quel punto come riscriviamo questi con la wait? I vari den con la wait? Quindi questo ci serve, come lo riscriviamo? E ci serve anche questo. Cosa scriviamo prima o dopo questa riga? prima o dopo questo exam.ad? Sì, e poi? Esatto. Non id, certo, va bene. Const id uguale await exam.ad. Questo è l'equivalente di questo, di riga 72. A quel punto possiamo mettere console.log perché questo aspetterà che quest'add sia completata, che la promise sia fulfilled, la metterà nell'id, il valore 2 o 3 e a quel punto stamperà console.log, quindi viene bloccata qui. E possiamo fare la stessa cosa per esami. Const my exam, qui sì, non possiamo usare la parola exams di nuovo perché ovviamente l'abbiamo già qui, quindi quella non possiamo ridefinirla. E cosa facevamo con esami? Console.log exams Come facciamo il catch? Come facciamo quel catch se vi ricordate? Sì, ci vuole la wait anche su getAll ovviamente. se no non funziona. Cioè se no stampa chissà che roba nella console.log Sì, console.log my exams era sbagliato, l'ho corretto. Come facciamo a gestire l'errore, il catch? con try e catch. Quindi semplicemente try catch errore, error, potete dargli il nome che volete e console.log error. Ovviamente se noi volessimo solo un catch solo sulla prima parte basta togliere questo e metterlo dopo. quello è normale. Ma visto che tutto può generare un errore possiamo fare un try catch grosso. se lo proviamo dovremmo ottenere lo stesso se cancelliamo la riga nel database e lo proviamo dovremmo ottenere lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima. qui stampa tutto vedete i due esami computer architecture l'id2 e poi computer architecture e web application 1. Ecco, l'altra volta qualcuno mi chiedeva accenna la soluzione dell'esercizio transcript. Qualcuno mi chiedeva non possiamo fare un toString e stamparlo meglio sì e si fa così il toString semplicemente qui si dice this.toString e si crea una funzione che faccia il toString per esempio boh così stampiamo code this.code ovviamente perché questo qui this.name due punti this.score e poi eccetera si può definire il toString e a quel punto quando lo eseguiamo togliamo l'inserimento così che adesso vedete anche più facile togliere l'inserimento adesso perché basta commentare due righe invece prima dovevamo togliere un pezzo dal den togliamo l'inserimento così non c'è da errori sul database perché abbiamo già inserito certo e vedete che ci ho stampa ancora sbagliato perché è perché il console.log usa il toString solo quando questo è una stringa quindi basta metterlo dentro un template un template literal my exams anche se è un array funziona uguale riesce a recuperare il toString corretto e se lo eseguiamo vedete che stampa codice trattino nome due punti 25 e poi birgola perché è un array quindi ristampa il chiama il toString dell'array che stampa ogni elemento separato la virgola e poi il toString del singolo valore sì sì carico anche questo esercizio quindi caricheremo sicuramente la soluzione e magari anche tutto il codice tipo il codice questo che nella cartella week 2 come la settimana scorsa così avete comunque un punto di partenza poi ci sarà la soluzione che sarà in realtà molto simile a questa è completa però con un toString diverso però sì quindi là dove c'era il repository che finiva con week 2 ci sarà tutto il codice da week 2 se ci sarà il week 3 avremo anche un repository simile non so se ho fatto con cooperazione a prendere il db che mi ha dato lei e non trovare le tabelle io il db ho preso proprio questo qui che ho in questa cartella l'ho messo su Slack non ho fatto proprio questo qui non ho fatto nessuna è proprio questo della cartella l'ho trascinato su Slack quindi controlla bene che vi aver messo il nome del database giusto qua e e che sia nella cartella ma anche se lo apri con il browser non c'è non ci sono le tabelle con quel programmino a qualcun altro capita se potete provare ve lo rimando è strano perché le tabelle ci sono però cioè quando lo apri lui si apre così non ci sono questo score in code sotto tables qualcuno funziona quindi vuol dire che il file non è corrotto ma ok vabbè Lorenzo lo piuttosto lo guardiamo ok sì esatto dopo se al massimo scrivi su mi scrivi su scrivi in general mi scrivi su Slack così chiudiamo la la lezione e solo due parole sul laboratorio di lunedì il laboratorio di lunedì sarà essenzialmente sulle cose che abbiamo visto finora ci saranno tre esercizi uno molto semplice di manipolazione delle stringhe uno in teoria sulla programmazione funzionale simile a quello che abbiamo fatto al transcript che abbiamo fatto l'altra volta ma su un altro argomento non sugli esami e e il terzo che sarà invece sull'interazione con il database così potete ottirare le promise ci saranno delle query select all eccetera quindi è un ripasso è un modo per anche voi per lavorare su queste cose che abbiamo visto finora già lunedì lavoriamo in gruppi quindi i gruppi che ci sono noi prima di lunedì su Slack vi diciamo che gruppo va in quell'orario se per caso il gruppo non si fosse ancora inserito nel form non sapesse come inserirsi nel form perché non è ancora completo prima di lunedì voi collegatevi lo stesso e io credo che se appunto se non ricevo proteste da qualcuno di voi che mi dice no io non posso assolutamente venire nel primo turno o io non posso assolutamente venire nel secondo turno che ve l'ho chiesto da lunedì per ora nessuno ha detto niente ma se qualcuno ha qualcosa ha dei problemi in un turno specifico me lo dica il prima possibile io farò una cosa tipo i primi dieci gruppi vanno nel turno uno gli altri facciamo finta otto gruppi vanno nel turno due e tutti gli altri sono nel turno due quindi comunque tutti gli studenti sono nel gruppo due e poi se non avete ancora un gruppo potete crearlo estemporaneo solo per il laboratorio uno nel frattempo che ci pensate se non siete proprio riusciti oppure crearlo nel laboratorio uno a caso e poi consolidarlo se sfruttare qualcosa per consolidarlo come gruppo ufficiale quindi compiegare i form ok però già lavoreremo in gruppi in modo che possiate anche voi ragionare e confrontarvi sulle varie cose dell'esercizio ok usa la promise usa sync perché questo non funziona eccetera al di là del supporto che poi l'esercizio vi darà durante il laboratorio e il testo del laboratorio lo carichiamo tra oggi e domani è quasi pronto solo rifinendo le ultime cose insincolano con i tre corsi e poi appunto lo iniziamo lo pubblichiamo e poi una settimana dopo ci saranno anche le soluzioni domande va bene se avete domande come solito o scrivete qui adesso in live io stoppo la registrazione se avete domande scrivete pure qui in live lecture ancora per qualche minuto se no poi successivamente in discussion e nel codice in basso così adesso comunque dicevo stoppo la registrazione se ci sono altre domande possiamo sempre rispondere su discussion o qui nei prossimi minuti se ci fosse problema ci vediamo lunedì in laboratorio e poi giovedì per la prossima lezione dove inizieremo invece il mondo relativo al web buon fine settimana a tutti per ora